Dopo la partita della grandissima vettore del Napoli stava un po' eforico, ma il Napoli giocherà a Napoli. Noi siamo pronti, ho già mostrato ieri la penna, sono pronto per firmare, ho mandato il mio capo di gabinetto a concludere la trattativa, ci incontreremo quando saremo pronti per la firma. Mi auguro prestissimo, ieri l'incontro è andato bene, siamo molto soddisfatti e si va in questa direzione.